Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per traffico tra Calenzano e P1 variante in direzione nord. Sulla Firenze Mare resta coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e code a tratti per traffico tra Pistoia e il Bidio con la 1, tutto in direzione di Firenze. In Fipini per incidente, 2 km di coda tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto in direzione di Pisa. Per interventi di miglioramento della sicurezza, resta 1 km di coda tra Montelupo e Ginestra verso Firenze e rallentamenti in carreggiata opposta tra La Strassigna e Ginestra. Per incidente, inoltre, segnaliamo la chiusura dell'entrata di La Strassigna in direzione di Livorno e coda tra Ginestra e La Strassigna verso Firenze. Ultima pagina per il traffico ferroviario, per guasto temporaneo e gli impianti di circolazione all'altezza di Pontassieve, i treni regionali potranno subire ritardi e variazioni. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!